Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma sulla direttissima si segnalano code per il traffico intenso tra il bivio con la variante di Vali con la Quercia e Badia, siamo sul versante Emiliano. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina Firenze in via Mariti sono in vigore restringimenti di carreggiata a tratti con chiusura del varco di collegamento tra le direttrici all'altezza del numero civico 6. Ed è tutto, buon viaggio!